Siamo oggi qua su invito della Forese, con molto piacere stiamo presenziando a quella che è una festa, una festa finale per le feste natalizie. Per noi udinese questo è il secondo anno di collaborazione con la scuola calcioforese e siamo molto contenti e orgogliosi del lavoro che si sta facendo perché si sta lavorando molto bene, abbiamo a che fare con tecnici molto motivati che hanno quotidianamente voglia di confrontarsi per cui ritengo che si stia facendo un buon lavoro. Ogni volta che veniamo qua troviamo un'atmosfera molto bella perché al di là dell'aspetto tecnico che riteniamo in questa scuola calcio si sta accorando con molta attenzione, troviamo anche quello che per noi è fondamentale, un ambiente familiare, un ambiente fatto di persone che ha voglia di mettersi in gioco, di migliorarsi giorno dopo giorno e per noi udinese questo è fondamentale, per cui facciamo gli auguri a tutti e siamo sicuri che qua faremo un buon lavoro da qua alla fine dell'anno.